Passiamo adesso alla seconda parte della mattinata con la relazione del professor Brian Lobo, sacerdote gesuita. Dico semplicemente due note per presentare, non dico un curriculum, ma almeno l'attività del professor. Il professor insegna teologia delle religioni, teologia della missione presso la Pontificia Università Gregoriana, almeno l'insegnamento principale. E poi è consultore del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Penso che abbia visto anche un po' la genesi di questo documento che stiamo cercando di presentare. Ecco, do la parola al professor Lobo, che ascoltiamo volentieri. So che anche delle slides da condividere sullo schermo, vediamo se riusciamo anche con questa prova tecnica. Prego, prego professore. Bene, allora, come vedete nella locandina, mi hanno suggerito, mi hanno offerto questo tema, questo titolo, la solidarietà interreligiosa e la missione. Io non sapevo che dovevo collegarlo con il documento che stiamo vedendo, ma comunque dopo aver accettato questo invito, poi quando facevo delle riflessioni su questo tema, mi sono detto che, cioè in qualsiasi maniera, questa solidarietà fra le religioni già esiste. Almeno parlo come un indiano e abbiamo anche un altro indiano della romaniana che sta con noi, che magari mi confermerà quello che sto dicendo. Questa solidarietà che trovo in India, anche trovo in qualche senso, magari in una maniera, diciamo, non così come in India, anche la trovo in Italia. Comunque, lì mi sono detto che invece di ripetere delle cose, o di dire, guardate, la solidarietà è possibile, dobbiamo fare dialogo interreligioso che stiamo parlando già da più di 50 anni. Io ho pensato di puntare le mie riflessioni sulla inevitabilità, diciamo, di questa solidarietà che dovrebbe far parte della conoscenza della religione. Cioè, di vedere gli elementi costitutivi, per dire, di questa solidarietà. Perché una volta che entriamo nel fondamento della religione dove esiste questa solidarietà, o questa idea della solidarietà, sarebbe una cosa ovvia che ogni religione deve per forza essere o vivere in solidarietà con un'altra religione in un contesto interreligioso. Dopodiché, poi, arriva la domanda della missione magari la missione fa parte di questa solidarietà e vedremo che ogni religione in qualche senso ha la missione del benessere umano, del benessere della società, del mondo, eccetera. Allora, prima, cioè il modus procedente di questa presentazione sarebbe di toccare il punto fondamentale per questa tematica della religione in generale, che sarebbe l'alterità, ok? Allora, andiamo adesso pian piano vedendo le slide e così riflettiamo su questi punti pian piano. Ecco, io vedo che la religione in sé, in generale, ha come il punto fondamentale l'alterità. E perché dico questo? Perché cioè la religione nasce, che lo dico anche dopo, la religione nasce dall'umanità e dalla divinità, cioè dall'uomo e Dio, no? La dinamica dell'uomo e Dio. Ci sono alcune religioni che all'inizio non parlavano tanto di Dio, come magari alcune religioni parlano, come il buddismo non parla di Dio, come il cristianesimo, per esempio, ma in qualche senso hanno quella realtà di al di là, no? Per esempio Dhamma, che il buddismo c'è la Dhamma Msharnam Gachami, e in questo senso c'è questa realtà che ogni religione tratta, che va oltre della realtà umana. e perciò dico che dobbiamo cominciare dal punto antropologico, per dire anche teologico, e perciò parto da questo punto e dico che l'alterità è parte intrinseca della nostra personalità, come uomini, cioè uomini e donne, perché siamo creati così, a immagine e somiglianza di Dio, come sappiamo, e perciò possiamo dire che il nostro Dio è Dio dell'alterità, che non vive per sé stesso, anche quando crea così che la creazione in futuro si goda la sua gloria, anche gli uomini o la umanità, potrebbe godere o potrebbe partecipare nella sua gloria. Ecco, in questa alterità che vediamo nella personalità umana, che vediamo nella personalità divina, questa alterità diventa il carattere fondamentale della religione, e sto parlando della religione in generale. Ecco qua, perché, come dico, la religione che nasce di queste due realtà, divina umana, per forza, ha questo carattere di alterità. E nell'alterità resta lo scopo della interreligiosità, perché se uno già presuppone che la religione dà per scontato questa realtà questa realtà dell'alterità, la interreligiosità dovrebbe succedere, no? Non deve essere forzato. Adesso io sono un cristiano, tu sei un buddista, un indivista, e dobbiamo fare il dialogo. Non c'è un dovere, cioè, deve uscire naturalmente da parte della religione. Ecco, questo è il punto qua che vorrei presentare davanti a voi. Ecco, ogni religione dovrebbe essere interreligiosa, ma con un proprio carattere specifico e diverso dall'altra religione. Qui non stiamo parlando del sincretismo, non stiamo parlando della identità, di cui l'abbiamo anche parlato, cioè, ogni religione tiene la propria identità, ma con questa identità per forza deve essere interreligiosa, deve essere in solidarietà con un'altra religione, specialmente nel contesto delle altre religioni, o nel contesto pluralistico delle religioni. E poi, parlando della missione, ogni religione cerca la salvezza, io metto la parola salvezza fra le virgolette, perché ogni religione ha, diciamo, la propria prospettiva della salvezza. Però, salvezza integrale, no? Con le proprie condizioni e prospettive, e, per esempio, quando dico salvezza integrale, vorrei capire il benessere umano, il benessere del mondo, che, che, in vari sensi, ogni religione vuole, no? Non è che la religione vuole distruggere i membri di quella propria religione. Ecco, la salvezza integrale fa parte della missione di ogni religione, in questo senso. Scusi, professore, se può far scorrere le slide, magari, se può far scorrere le slide, perché siamo ancora fermi. Ah, sì, ok. Allora, quello che sto facendo, il suo powerpoint, ecco qua, perfetto, questa è la quarta slide, questa qua. La quarta slide, sì. faccio con l'animazione, allora, volete l'animazione o no? Sì, se ce le fa scorrere sullo schermo è più facile seguire. No, lo faccio, sì, perché sta presentando, dovrebbe arrivare sullo schermo vostro, eh? Sì, lo vediamo noi, la slide la vediamo, è che era rimasta ferma sul titolo. Ah, ok, perché c'è l'animazione, allora, io devo premere il tasto e poi arriva il prossimo punto, così. Fatta manualmente, allora, perfetto, grazie. sì, ecco, in questo senso, guarda. E allora, quando parliamo della missione della salvezza integrale in ogni religione, questo include tre aspetti fondamentali, no? Di nuovo, adesso entriamo nelle religioni, ogni religione ha questi tre aspetti, Dio, umanità e natura. E cerco di evitare la parola uomo, di solito, no? Mettono così Dio, uomo e natura, perché oggi parlano del linguaggio gender inclusive, no? Per includere tutte, diciamo, tutti i due, uomini e donne, magari anche altri. Comunque, umanità e natura e per la missione della salvezza integrale, uno deve restare in solidarietà con Dio, l'umanità e la natura. Allora, anche questo è ovvio, no? Quando parliamo della integralità, della salvezza, della missione, questa solidarietà con il divino, con l'umanità e la natura ci prendiamo per scontato. Dunque, parlare di missione e solidarietà interreligiosa, che è il titolo della mia presentazione, implica trattare quelli tre aspetti interreligiosamente, perché troviamo questi tre aspetti in ogni religione. Prima troviamo l'alterità di ogni religione e poi, dopo, troviamo questi tre aspetti in ogni religione. E perciò, quando trattiamo questi aspetti nella nostra presentazione, dovremo per forza trattarli in un modo interreligioso. Ma, comunque, sarebbe impossibile trattare questi tre aspetti mettendo esempi di tutte le religioni. E perciò, io scelgo una religione, come un esempio e punto di riferimento per fare questa presentazione e perciò userei la religione Hindu. Essendo indiano, allora, ho avuto più esperienze con gli hinduisti, con la religione hinduismo, ma, devo dire, anche ho avuto varie esperienze con i buddhisti, studiando anche buddismo e genismo, eccetera. Bene, prima prendiamo questo aspetto, il primo aspetto solidarietà con il divino, dove faremo un paragone con alcune cose fra cristianesimo e hinduismo. Bene, prima di tutto, quando parliamo dei concetti divini, possono, questo, cioè, questi concetti possono creare conflitto che è la solidarietà, perché una volta, quando parliamo del divino fra le religioni, come anche Paolo diceva, i dogmi, i dogmi che creano questi conflitti, o l'acido, e allora, in questo senso, qua, in questa presentazione, non vorrei entrare in quella prospettiva, perché, cioè, i dogmi e la dottrina può rimanere come la base della, diciamo, della conoscenza intellettuale, diciamo, o della formulazione intellettuale di una esperienza di Dio. Ecco, le lasciamo così, ma vorrei entrare nell'esperienza trasformativa quando parliamo della solidarietà con il divino in un modo interreligioso. Allora, non rifiutiamo i concetti divini, ma le lasciamo a parte per questa presentazione, per entrare più nella trasformazione spirituale, come dico qua. In questo ambito, l'importante è di concentrare sulla trasformazione spirituale, se no, rimaremo come praticanti di una religione senza nessuna esperienza trasformativa. E questo, questa è una realtà vissuta, già da tanti anche di noi, cioè, ci sono tanti che vanno alla messa o dicono il rosario, ma senza aver nessuna esperienza personale di Dio, no? Cioè, vivono la fede cristiana come un obbligo e perciò abbiamo questo fatto di sbattesimo solo per dirvi che quando uno vive la fede solo come un rituale, come un obbligo, arriverà a un momento quando non trova nessun significato nella propria fede e poi vuole lasciare la chiesa e vuole negare o togliere il battesimo. Non so se sapete questo movimento che adesso sta in alcune regioni di Europa, specialmente in Nord Italia, dove i cristiani vogliono togliere il battesimo, cioè vogliono seguire o fare un rituale per sbattesarsi. Cioè in questo senso magari la chiesa si trova in in un contesto sfidante, cioè in un contesto dove queste persone stanno sfidando la cioè il punto cruciale della missione della chiesa, in senso non perché la chiesa andava a battezzare tutti, perché c'era il comando e il mandato di Gesù era per battezzare tutti, ma vediamo che questo battesimo va bene, cioè abbiamo vari numeri nella chiesa ai cristiani, ma dopo il battesimo non è che un cristiano è assicurato di avere questa esperienza di vivere il cristianesimo come gli apostoli o come i santi o come alcuni con una profondità. Vediamo che anche Gesù non ha battesato nessuno in quel senso e anche prima del battesimo c'era l'esperienza apostolica che li ha portati avanti per proclamare Cristo e perciò dico cioè stiamo stiamo puntando su una esperienza spirituale o trasformativa in questo punto della solidarietà con il divino perché è il punto fondamentale del cristianesimo e vediamo che è il punto fondamentale anche dell'induismo comunque restiamo con questo pensiero un po' la missione cristiana prima dà per scontato l'autotrasformazione nella solidarietà con Cristo come vediamo che gli apostoli già erano trasformati dall'esperienza di Gesù Cristo anche il Pentecoste era una una trasformazione una una esperienza spirituale ecco nell'autotrasformazione in rapporto alla solidarietà con Dio questa autotrasformazione è evidente nelle altre religioni e questa premessa può diventare punto di incontro e solidarietà fra le religioni perché stiamo parlando della solidarietà interreligiosa e io dico che tocchiamo questo punto che è il punto di base del cristianesimo quando il cristianesimo è cominciato e allora lo troviamo anche nell'induismo che lo usiamo come analogicamente anche per le altre religioni e perciò vi do un esempio di una santa posso darvi vari esempi di vari santi nell'induismo perché ho fatto una ricerca su questa su questa idea e l'avevo presentato in un articolo tre santi no Mirabai Tukaram e Kabir ma comunque prendo solo questa santa e vedete voi il linguaggio usato qua come ha una risonanza magari con il linguaggio usato anche dei nostri santi che hanno avuto una trasformazione spirituale vivendo la fede cristiana ecco allora Mirabai nel suo amore per Krishna ha sperimentato un'autotrasformazione in virtù della quale si sente come la sposa di Krishna e con tale amore canta o mio compagno il signore dei poveri mi ha sposato nel mio sogno e il mio sposo era il signore Krishna mi ha tenuto con la mano mi ha sposato e ha raggiunto lo stato immutabile di beatitudine nuziale ecco qui cioè parla come una sposa di Krishna cioè parla di un amore nuziale ecco e poi è raggiunta anche alla spiritualità molto profonda quando leggiamo Mirabai e veramente si trova una devozione per Krishna molto profonda e anche le sue parole talvolta i suoi canti specialmente ci fa ci spinge a magari amare Gesù Cristo nel modo stesso ma il punto qua è che come alcuni missionari prima del Vaticano 2 pensavano che tutte queste religioni sono diaboliche Krishna un diavolo allora come mai che questa Mirabai seguendo il cosiddetto diavolo arriva a questo livello della spiritualità che risuona come il livello della spiritualità magari di di Santa Teresa di Avila o Giovanni della Croce o altri santi no? e e allora qui se entriamo nel diciamo nella nelle varie dinamiche della dottrina di parlare di Krishna se lui è vero Dio o no perdiamo perdiamo la fondamentalità del di questa religione perdiamo la base spirituale che è la base anche del cristianesimo e allora in questa maniera non si fa la solidarietà interreligiosa però se entriamo nell'esperienza spirituale di questi santi troviamo che anche c'è nell'induismo qualcosa con cui possiamo essere in solidarietà come cristiani ci sono anche vari miracoli che accadono nella vita di Mirabai e perché metto questo punto qua perché dicono solo Gesù ha fatto i miracoli ci sono santi nell'induismo che hanno fatto i miracoli qui solo parlo di Mirabai ma posso darvi anche tantissimi esempi di vari altri santi che hanno fatto i miracoli ecco la gente che voleva ucciderla perché perché la famiglia voleva farla sposare perché apparteneva alla famiglia nobile e voleva farla sposare un altro principe e lei non voleva però alla fine è sposato a causa del nonno ma comunque alla fine voleva staccarsi dal marito e perciò alcuni volevano ucciderla pensavano che lei aveva qualche cosa con un altro uomo e perciò l'hanno fatto bere il veleno ma lei ha bevuto il veleno prendendo il nome di Krishna e il veleno si muta in succo di vino e poi la fanno dormire sul letto di chiodi e i chiodi si trasformano in petali di rose bene cioè tutto questo nell'ambito della sua esperienza con Krishna e così gli hinduisti anche oggi hanno un rapporto con Krishna molto diciamo profondo e trovano magari cioè trovano i miracoli o non so quando pregano a Krishna e Krishna li aiuta nella loro vita ma se entriamo nel discorso che Krishna non appartiene ai Veda che viene dopo allora perdiamo magari questa verità della religione che si trova anche nelle altre religioni ecco ci sono tanti esempi di santi hindu che vivono una vita di santità sacrificio e vicinanza con Dio allora la domanda se esiste questa vicinanza o solidarietà con Dio con effetti buoni nell'induismo o altre religioni e se Dio è l'unico è possibile che la nostra solidarietà con Dio sia connessa o abbia delle risonanze con le altre solidarietà con Dio così che si arrivi ad una meraviglia del mistero divino per giungere infine a collaborare insieme nella conoscenza più profonda di questo mistero ecco semplicemente per dire che se troviamo questa profondità nell'induismo o nelle altre religioni che dovrebbe venire da Dio in quel senso perché è buono le esperienze sono buone e li portano alla carità amore sacrificio eccetera e questo già è un punto per per la solidarietà per collaborare ecco e e se qualcosa blocca questa collaborazione perché alcuni dicono no la collaborazione è molto difficile perché loro pensano in un'altra maniera noi pensiamo in un'altra maniera è vero i nostri pensieri magari sono un po' diversi qua e là ma se entriamo in questa questa esperienza fondamentale perché la collaborazione deve essere difficile ecco questo è il punto e se qualcosa che blocca la collaborazione non viene da Dio magari viene dal male la nostra spiritualità non può rifiutare la spiritualità degli altri specialmente dove si riscontra la carità il sacrificio l'amore eccetera per citare il mio direttore spirituale Herbert Alfonso che insegnava la spiritualità qua che è morto già e dice che l'esperienza spirituale autentica è un veicolo per lo spirito di Dio e per il dialogo interligioso parla dello spirito di Dio in senso anche dello spirito santo e quello lo vedo in questi missionari Giud Monchenen che anche Paolo ha citato Abishik Tananda Bid Griffiths e altri e vedo che hanno vissuto questa vita dialogica perché hanno visto questa esperienza spirituale in queste religioni e specialmente hanno trovato la dueità la dueità è l'esperienza del non dualismo nell'induismo come una esperienza molto forte dell'induismo ecco tale metodo crea un atteggiamento di apertura verso l'altro che deve guidare il dialogo interligioso al fine di edificare la pace nel mondo e qui cito Papa Francesco un atteggiamento di apertura nella verità e nell'amore deve caratterizzare il dialogo con i credenti delle religioni non cristiane ma questo lo sappiamo queste sono le parole semplici diciamo e questo dialogo interligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo e pertanto è un dovere per i cristiani come per le altre comunità religiose io qua direi non solo è un dovere è una cosa che deve uscire naturalmente e questo è il punto della presentazione di questa sessione o di questa parte della presentazione perché una volta che mettiamo come un dovere crea lo stress diventa un po' pesante allora il dovere dovere dobbiamo fare no cioè deve uscire naturalmente perché siamo perché la religione è così per l'alterità e ogni religione ha questa solidarietà con il Dio con il Divino ecco e perché deve essere così difficile ok ma le difficoltà le sappiamo ma comunque se prendiamo questa prospettiva la domanda è perché deve essere difficile tutto il discorso della solidarietà in sintesi la solidarietà con Dio riconosciuta interreligiosamente fa crescere l'amicizia con l'altro e questo è un passo missionario fondamentale per quella collaborazione tra le fedi che ha come scopo la salvezza integrale ok allora finendo con questo primo aspetto entriamo nell'aspetto secondo la solidarietà con l'umanità e anche qua vediamo alcune differenze ma alla fine troviamo un punto focale per l'induismo e il cristianesimo ok questo aspetto si vede in ogni religione perché cioè gli uomini vengono insieme nella comunità in ogni religione e questa religione vuole aiutare gli uomini cioè i propri membri come ho detto prima per il loro benessere e alla fine anche per arrivare alla vita eterna e perciò il benessere umano non è negato nelle religioni ecco questo è vero e la prospettiva antropologica è diversa in alcune religioni in altre più simili ma questo lo sappiamo specialmente quando entriamo nell'induismo vediamo un'antropologia diversa dal cristianesimo perché sappiamo che nell'induismo l'anima è considerata imprigionata nel corpo perché il corpo è la materia karmica e perciò alla fine per la moksha l'anima deve essere liberata dal corpo ma piuttosto la idea è cioè non così corpo ma è la carne cioè la carnalità che blocca la liberazione dell'anima e perciò l'induismo in qualche senso non è sempre negativo al corpo ma comunque per per la moksha finale finale l'anima non può avere il corpo però nel cristianesimo la risurrezione dà un carattere divino al corpo e perciò per noi il corpo è importante anche nella vita eterna il discorso però della salvezza integrale della persona diventa facile per il cristianesimo ma non per l'induismo perché alcuni dicono siccome il corpo è visto in modo negativo come possiamo parlare della salvezza integrale nell'induismo magari viene facile per il cristianesimo però qua vorrei vorrei darvi o presentarvi queste due idee dell'induismo che ci porta a pensare o di capire che l'induismo pensa positivamente anche del corpo umano l'induismo ha questi concetti di il mondo è una famiglia nel Mahupanishad capitolo 6 arriva questa idea e poi il loco sangraha nel Bhagavad Gita che vediamo dopo arriva a questo benessere universale ed anche la medicina ayurveda che sappiamo anche lo yoga è connesso con il corpo umano per alla fine sicuramente arrivare alla moksha però il benessere umano è considerato importante in queste pratiche della ayurveda yoga in questi concetti del loco sangraha e basso dei vakutumbakkam e allora in Bhagavad Gita 3 25 appare il concetto di loco sangraha come ho detto dove è spiegato che uno deve lavorare per il benessere umano senza attaccarsi ai frutti o risultati sappiamo già quelli che hanno fatto l'induismo che anche questa idea di di non attaccarsi ai frutti è una idea di nishkama karma che che ha avuto anche una influenza su Mahatma Gandhi magari Mahatma Gandhi voleva può essere considerato la persona fra fra tutte queste altre persone che hanno cercato di vivere la fede induista in modo molto profondo o molto retto diciamo e allora Mahatma Gandhi era quello vivendo l'induismo nel modo profondo ha vissuto la solidarietà umana cioè una volta che lui è tornato dall'Inghilterra cioè sempre abitava con la giacca cravata i pantaloni quando ha visto i poveri ha detto se io lavoro per la nazione se io lavoro per questi poveri io non posso mettere questi vestiti e allora lui ha tolto quelli vestiti e poi ha quasi non metteva quasi niente cioè ha cominciato a mettere questi vestiti che i poveri mettevano per essere in solidarietà con i poveri ecco e lì vediamo una solidarietà umana vissuta da uno che viveva il suo induismo bene ecco e allora allo stesso tempo Gandhi era influenzato con le beatitudini di Gesù Cristo che lo sappiamo che mostravano in qualche senso il bisogno della solidarietà umana beati i misericordiosi beati gli operatori di pace eccetera allora qua vediamo questa solidarietà umana che fa parte anche centrale dell'induismo e può spingere un indu per vivere in quella maniera di solidarietà per lavorare per il prossimo ecco per il bene del prossimo e questa essenziale solidarietà umana che riscontriamo avere un volto interreligioso da per scontato potremmo dire la salvezza integrale umana in questo senso cioè non è che l'induismo solo pensa del moksha non è che Gandhi e questi altri pensano solo del moksha e allora le altre cose umane devono essere buttate via cioè la giustizia umana eccetera eccetera no cioè ci sono questi hindù che vivono la propria religione bene vivono anche in solidarietà umana e perciò si vede questa realtà della salvezza integrale nel hinduismo anche dunque la domanda sarebbe la solidarietà umana che fa parte centrale delle religioni può creare la collaborazione interreligiosa per il benessere umano per esempio se un cristiano vede questa realtà della solidarietà umana anche nelle altre religioni per forza deve deve andare a collaborare con le altre religioni cioè non deve essere una cosa doverosa no deve essere una cosa naturale ecco entriamo nel terzo aspetto ecco sì le ricordo ancora dieci minuti poi cerchiamo di completare l'incontro sì bene allora la solidarietà con la natura vediamo adesso spieghiamoci un po' sì questo versetto nella Bibbia è stato usato dai teologi per per in qualche senso fare delle lamentele contro il cristianesimo dove Dio dà il compito all'uomo di dominare la natura e la lamentela era che questo versetto era usato o era entrato nella psiche dei cristiani di non sentire la colpevolezza di distruggere la natura e perciò la natura era dominata distrutta ma allo stesso tempo se entriamo nel discorso di Thomas Berry Berry dice che non solo questo versetto ma anche la natura in sé crea paura e lui citava la pandemia della peste nera no del del quattordicesimo secolo se mi ricordo bene e poi anche oggi quando parliamo della pandemia c'è questa paura creata creata della natura in questo senso e perciò gli uomini avendo questa paura vuole dominare e dominando la natura va a distruggere la natura ma comunque ci sono altri teologi che dicono che no cioè Dio ha creato tutto era buono e anche nella Bibbia si trovano i versetti dove c'è l'amore per la natura no dove la natura non è vista negativamente e i teologi come Richard Bocca meno altri allora e questa solidarietà con la natura è condivisa fortemente dall'induismo infatti l'induismo è considerato come la religione che fa crescere il rispetto per la natura come sapete che ci sono delle divinità nella natura no e alcuni dicono che qua c'è il politeismo ma cioè nell'induismo vediamo che ci sono vari livelli di dei adesso non vorrei entrare in questo inno dei veda che vedete sullo schermo che volevo mostrarvi perché non ho tanto tempo cioè vediamo che questi dei quando sono venerati sono venerati in un modo diverso cioè per esempio quando facciamo la genuflezione davanti a un re e facciamo la genuflezione davanti al santissimo non è la stessa venerazione per dire non è lo stesso rispetto che stiamo dando in quella genuflezione in questo senso i dei dell'induismo sono venerati in una maniera perché hanno il rispetto magari per la muka per l'albero eccetera non è che stanno pensando di questo Dio ultimo parabrahman no e perciò alcuni dicono che almeno questi inni nei veda che non leggo perché non ho tempo dicono o danno la colpa a questi inni nei veda dicendo che c'è c'è un tipo di panteismo ma in questi inni vediamo che non c'è il panteismo magari c'è un panteismo se leggiamo anche il mundaka upanishad qua vedete come è scritto come il ragno emette il filo e lo riassorbe come sulla terra crescono le erbe come da un uomo vivo nascono i capelli e i peli così dall'indistruttibile si genera il tutto vuol dire che i capelli sono diversi dall'uomo cioè anche se c'è la emanazione del mondo da dio è diverso da dio non c'è un panteismo nel senso reale ecco e perciò per un hindu diventa facile a rispettare la natura c'è la solidarietà con la natura ecco e qua vi mostro questa foto di queste donne che abbracciano l'albero e questo appartiene al movimento cipco cipco vuol dire aggrapparsi o appiccicarsi e loro vanno ad abbracciare questa terra perché perché il governo voleva tagliare questi alberi per un commercio grande e loro non hanno lasciato il governo a tagliare questi alberi dopo di che questo movimento è cominciato negli anni 70 e questo movimento ha avuto un grande incluso non solo in India in tutta l'India ma anche in tutto il mondo e da lì poi è cresciuto tanto il rispetto per la natura ma il rispetto nella maniera hinduista cioè per anche vedere la presenza divina in modo molto forte nella natura ecco e perciò l'ecologia integrale il punto focale intorno a qui l'enciclica laudato si muove e che vuole il benessere di tutti può essere ben sostenuto nel hinduismo e la domanda se esiste questa solidarietà con la natura nelle varie religioni una collaborazione per salvare la natura dovrebbe essere inevitabile ecco la conclusione la religione ha il carattere intrinseco di alterità che crea la solidarietà ad extra come ho detto all'inizio c'è questa questa realtà nella religione che dovrebbe creare questa solidarietà ad extra e poi nel cuore di ogni religione esiste la solidarietà ad intra con le tre realtà sopra menzionate e la solidarietà ad intra dovrebbe essere in sintonia con la solidarietà ad extra che rende non solo possibile ma inevitabile la collaborazione fra le religioni per il benessere e la salvezza fra virgolette di tutti nonostante le differenze ecco con questo finisco la mia presentazione magari rimango in tempo giusto ecco grazie grazie